In sala giunta del Comune di Napoli è stata presentata la nuova società di gestione pubblica dell'acqua. La trasformazione della vecchia società per azione ARIN in ABC Napoli è la conseguenza diretta dell'esito del referendum del 2011 in cui gli italiani hanno detto no alla privatizzazione dell'acqua. Oggi è una giornata importantissima per il cittadino. Intanto significa che è rispettata la volontà di 27 milioni di cittadini con il referendum del 2011. Nel 2011 la stragrande maggioranza dei cittadini italiani disse fermamente che non voleva che il bene comune per eccellenza, l'acqua, fosse sottoposto alle logiche privatistiche delle società per azione e alle logiche del profitto. Da lì è partita, da Napoli, per volontà del signor De Magistris della sua giunta, è partita un progetto importantissimo, quello di procedere alla trasformazione della società per azione in un soggetto totalmente nuovo, che non esitiamo a chiamare un soggetto che esprime il concetto di impresa democratica, cioè un soggetto dove si vuole unire efficienza, efficacia, economicità, ma nello stesso tempo alle grandi regole della democrazia partecipativa, della trasparenza, dell'informazione. Il cittadino si riprende ciò che è suo. L'acqua è un bene comune, è stata difesa dai cittadini italiani nel referendum del 2011. 2015 la trasformazione di ARI in SPA in Abicinapoli è la prima esecuzione reale di quella indicazione che il popolo sovrano aveva dato. Perciò questo è un momento di grande festa dal punto di vista politico per la cittadinanza di Napoli, che è la prima che potrà godere davvero dei benefici dell'acqua pubblica, il che significa acqua gestita senza l'ossessione del profitto, nell'interesse di tutti, nell'interesse dell'ecologia del territorio, nell'interesse di uno sviluppo della città che sia sostenibile e che sia di qualità.